Non accenna ad arrestarsi l'allarme maltempo sull'Italia meridionale e sulla Sicilia, dove fino a mercoledì potrebbero verificarsi eventi eccezionali, vere e proprie bombe d'acqua. L'allerta della protezione civile dello scorso fine settimana è stato prolungato per altre 72 ore e dunque il rischio permane appunto fino a mercoledì. La giornata più difficile potrebbe essere quella di domani, martedì. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo e ha messo in moto la macchina della prevenzione e nelle zone della Sicilia orientale, soprattutto sul versante ionico, si cominciano a fare i primi sopralluoghi per verificare che il sistema funzioni. Secondo i meteorologi, sempre nella Sicilia orientale, potrebbero arrivare piogge torrenziali accompagnate da venti molto forti e da attività elettrica. Altre 24 ore di prudenza perché è probabile che smottamenti e frane interessino le zone a maggior rischio idrogeologico. La protezione civile raccomanda di spostarsi in auto solo se strettamente necessario. Il maltempo del fine settimana appena passato si è fatto sentire anche se non si può parlare di veri e propri nubi fragi. Nel Messinese i problemi più grossi li ha dati il mare con onde alte più di 5 metri che hanno invaso il litorale di Giardini Naxos e di Giampilieri. Fermi per tutta la giornata agli scafi e traghetti. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Padermitano per alberi caduti e strade allagate. Dieci alberi sono caduti in via Ugo Lamalfa all'altezza dello svincolo autostradale. I vigili hanno soccorso anche diversi automobilisti rimasti impantanati. Due agli smottamenti avvenuti. Uno in via Beato Rizzo nella zona di Falconara. Un secondo intervento è avvenuto nella zona di Alto Fonte. Due agenti della polizia stradale di Buonfornello poi sono stati investiti da una smart mentre stavano soccorrendo un'auto in panne sulla corsia d'emergenza dell'autostrada 19 Palermo-Catania. L'incidente si è verificato nei pressi di Villa Abate in direzione del capoluogo Etneo. I due poliziotti sono stati trasportati all'ospedale civico di Palermo ma le loro condizioni non sono gravi.